Ma perché? Come mai? Ma perché? In cucina non ci entro mai. Eh? Cosa c'è nella padella? Mmm, che profumino! Fai assaggiare un pezzettino? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua?